Per Pappi Corsicato il suo è il volto di un'altra. Laura Chiatti, bellissima e super fashion più che mai, ha presentato a Roma il film che la vede protagonista insieme al fascinoso Alessandro Preziosi. Per Laura, nel privato sempre più in love con Davide Lamma, un mini abito delizioso a sfondo nero con tanti fiori disegnati sopra, sandali gialli altissimi e il viso lasciato scoperto da una treccia che raccoglie i capelli biondi. Nella pellicola è Bella, una conduttrice di un celebre programma tv sulla chirurgia estetica. Assetata di potere e pronta a tutto pur di conquistarlo, anche a cambiare faccia. Gli interventi di chirurgia estetica sono eseguiti dal chirurgo suo marito René Alessandro Preziosi, gestore di un'esclusiva clinica privata situata tra i boschi.